Ciao a tutti ragazzi, io sono Cielophysis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video per dirvi che ho scoperto come fare le live su youtube e questa cosa è epica ho spaccato già qualcosa questo qui come vedete il mondo di... vabbè allora vi dico una cosa sabato ci sarà una live circa su... dalle ore... potrebbe essere dalle 4 e mezza alle 5 qualcosa del genere comunque ci sarà questa live qui su youtube logicamente in cui io giocherò a questo modpack qui che è il modpack, è un modpack mio ma la particolarità di questo modpack lo potete scaricare anche voi potete giocare con me utilizzando Amaci adesso vi faccio vedere come allora, utilizzate Amaci che è questo programmino qui molto semplicemente entrate in questa rete qui che è Cielophysis 5 ci sono io, la password è sempre Cielophysis 5 ci sono io, Electric, Micratv e Margherita adesso posso creare anche una nuova rete? ecco guarda, ve la creio direttamente con voi un'altra rete Cielophysis 6 siccome questa è piena, la password è sempre Cielophysis 6 anche qui aspetta, finisco che qui ho sbagliato 6 crea eccola qui, perfetto, questa è vuota quindi ci potete entrare di tutti si può giocare però nel server soltanto 8 persone alla volta il che è un problema, ma comunque dopo ogni live resetterò Amaci, farà uscire tutte le persone che ci sono eccetto loro te ok quindi per prima cosa per giocare dovete entrare nella mia rete da qui se c'è qualcosa me lo potete anche scrivere ah si, mi dovete anche scrivere nei commenti, logicamente, di questo video a questo punto io aprirò la LAN i trucchi non li metto, no aprirò la LAN, il server e per entrare voi dovete darmi l'IP che è questo cioè questo qui aspetta, adesso faccio un esempio con Electric l'IP è l'indirizzo IPv4 che trovate qui lo potete copiare ctrl-v, due punti e poi il numero del server ma l'IP tanto ve lo darò anche io ok adesso invece vediamo come scaricare il modpack aspetta un secondo ecco qua, il modpacks allora ok, semplicemente aprite il vostro Technic Launcher che sia craccato o meno è uguale andate su modpacks cercate Cellophysis e vi appariranno tutti i miei modpack se questo già lo sapevate suppongo ma voi dovete scaricare il Cellophysis modpacks che è quello che ho messo da poco e l'hanno già scaricato in 20 quasi vabbè comunque scaricate questo qui entrate andate su Amaci entrate nella mia rete e quindi durante la live che sarà sabato siccome oggi è 17 ed è ok ci ho messo è stato molto difficile ma sono riuscito a fare 17 più 4 che fa no aspetta vabbè comunque lasciamo passare è di sabato 20 di questo mese logicamente ci sarà la live sul mio canale e voi potete scaricare tutte queste cose qua e giocare con me quindi entrate nella rete scaricate il modpack e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ah mi sono dimenticato di dirvi che comunque questa live qui è ancora un test non so come funzionerà non so neanche se riuscirete a connettervi per via della mia poca connessione in quel momento perché gestirò la live comunque per oggi è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti